Se c'è da credere alle indiscrezioni, questa bisca è il fiore all'occhiello di Vasquini. È stata segnalata altre volte? No, mai. È frequentata da industriali e da figli di papà. Si entra solo se si è soci e conosciutissimi. E noi non siamo né soci né conosciutissimi. È per questo che non vogliamo entrare, no? Entra lì qua. Buonasera, signore. Lasci pure la macchina, ci pensiamo noi. Ciao, belli capelli. Sto, prendi le mani. Arriva una macchina. Tu continua, ci vado io. Si. Buonasera, signore. Lasci pure la macchina, ci pensiamo noi. Faccia attenzione, è in rodaggio. Si, signore. Buonasera, signore. Era quello dei pastifici. Portacci su. Invece da aumentare le vaga agli operai si vi aggioca i soldi qui. Ma che te frega. Buonasera, signore. Buonasera. Buonasera. E' un'altra cosa. Vieni! Bagna, bagna!